Ciao a tutti, domani vado a Londra, sì ve lo dico, faccio questo video per dirvi che sparisco per 5 giorni, poi non lo so perché in verità io faccio un botto di video, in realtà io organizzo così i miei video, nel senso ho un momento libero, allora ne faccio 10 di fila perché io non ho mai momenti liberi, nei momenti in cui ho momenti liberi mi piace fare i video, lasciarli lì in privato e poi caricarli giornalmente, metterli pubblici giornalmente, quindi se avrò una connessione decente potrò rendere pubblichi dei video che ho privati sul canale e niente, Londra, cani e porci vanno a Londra, io non conosco nessuno che non sia mai andato a Londra, io non c'ero mai andato, quindi grazie a Dio domani recupero, recupero questa lacuna e il bello che io ho visto, Podgorica, che voi direte è? Podgorica è la capitale del Montenegro che tra l'altro è stata nominata come la peggior capitale d'Europa e posso confermare che è molto molto brutta, ma è quel brutto talmente brutto da essere bello, io mi sono fatto tutto il giro dall'Europa dell'Est per i campi, per l'ex Jugoslavia, rischiando la vita, nelle steppe della Bosnia, ecco, ma non ho mai visto Londra, quindi domani adempirò a questa lacuna, ovviamente mi porterò dei libri, però ovviamente leggerò principalmente sui mezzi perché sono in vacanza e poi sono in un posto nuovo, cioè io penso che visiterò, non dormirò neanche perché a me piace vivere in una città sia di giorno che di notte che di mattina, quindi non si mangerà, non si dormirà perché si sarà sempre in giro, poi vabbè, se andassi in Giappone passerei il tempo a mangiare perché c'è il sushi, però boh, Londra, diciamo che gli chef british non è che sono molto noti per la loro, a parte Gordon Ramsay, Gordon Ramsay è inglese, aiuto, adesso farò una figura di merda, però ecco, diciamo che le mie tasche non possono permettersi il ristorante di Gordon Ramsay, quindi punterò principalmente sul turismo più sfrenato, andrò a caccia di librerie, spero di farvi, di trovarne di particolari, eccetera, e soprattutto negozi di vinili, oltre, oltre che ovviamente le mete, tipo Buckingham Palace, eccetera, eccetera, però i negozi di vinili di Londra, perché Londra, cioè la capitale della musica vera, no, e quindi mi gasa questa cosa, e quindi sono emozionato, ovviamente porterò dei libri, stavo dicendo ne porto tre, uno sono a metà, l'altro è una raccolta di racconti, sono al terzo racconto, e un altro non l'ho proprio iniziato, ce l'ho preso in biblioteca, così casualmente, non sono anche chi sia l'autore, non l'ho mai sentito, però mi ispira parecchio, e me li leggo principalmente in aereo, sul treno, e via dicendo. I libri sono, vabbè, uno è un classico che avrete letto tutti, tranne me, ma io sono a metà, e vabbè, nessuna presentazione serve, perché è un libro famosissimo, ed è Il Barone Rampante di Italo Calvino, ed è la primissima volta che mi imbatto in Calvino, a parte i brani letti a scuola, Il Sentirò dei Nidi di Ragno, Marco Valdo, eccetera, ma proprio di mia spontanea volontà è la prima volta che leggo qualcosa di Calvino, e quindi, niente, diciamo che sto colmando anche questa lacuna, sono più o meno a metà, me lo leggo pian piano però, perché non è, non solo nel mood adeguato, però mi sta piacendo molto, mi sta anche divertendo, mi sta facendo pensare, quindi di certo non lo interrompo per riprenderlo chissà quando, ma lo continuo a un ritmo più lento, diciamo. Il secondo libro che sto leggendo, che sono fermo al terzo racconto perché è una raccolta di racconti, è Sinapsi, opere postume di un'autora ancora in vita di Matteo Gagliazzo, che io vi ho già presentato con la recensione di Cargo, è la sua raccolta di racconti, è sentito la racconti postumi di un'autora ancora in vita perché Matteo Gagliazzo ha deciso di abbandonare la scrittura nel 2003, quando è uscito il suo ultimo romanzo e il mondo è posteggiato in discesa, quindi questa qua è una raccolta di scarti ritrovati nei suoi cassetti e quindi è come se fosse morto ma in realtà non lo è, è una raccolta di, è come se fosse un libro postumo vero e proprio ed è bello, cioè è un po' come incontrarsi con le varie anime dello scrittore che passano dal pulp alla riflessione e lui scrive in modo divino, c'è stata una delle scoperte più belle che ho fatto quest'anno, Gagliazzo, che io ho letto tutti e tre i libri pubblicati che sono una particolare forma di anestesia chiamata morte, Cargo e il mondo posteggiato in discesa, sono incredibili tutte e tre, con la preferenza per Cargo che secondo me è proprio quella marcia in più. L'ultimo libro che mi porto è quello di cui non so nulla ma mi ispirava la copertina, devo essere sincero, poi mi sembra una roba pop, leggera, vivace e sto scoprendo quanto mi piace questa letteratura italiana anni 90, molto giovanilistica però con un senso profondo nelle cose che è Generations of Love di Matteo Bianchi, io ho visto che già nomina i Massiva Attack, Bjork, è tutto ambientato in un'Italia super pop e io ho detto va bene, va bene, lo leggo, poi magari è una cagata, però vi farò sapere e questi sono i libri che mi porterò in valigia, ditemi voi da quale devo iniziare, a parte che due sono in lettura e uno ancora no, dipende, quello Generations of Love mi sa di lettura molto molto leggera, quindi boh, se sarò in mood di lettura super leggera punterò su quello. Quindi ci troviamo quando torno, se vedete che pubblico ancora video è perché ho trovato il sistema per sbloccare quelle che ho già caricato e ciao a tutti!